io televino min se avete notato all'inizio di questo video non c'è il solito numeretto non è uno dei soliti normali video è una cosa che ho in mente da un po' di tempo una rubrica settimanale falsamente settimanale dedicata interamente a qualcosa che non c'entra un cazzo con i giochi di cat finalmente non avete visto come mi sono vestito bene? ho abbinato la mia camicia migliore con la mia canottiera migliore per creare questo look... lasciamo perdere di cosa parleremo di oggi? di fumetti vari ed eventuali perché? perché mi andava? ma soprattutto perché è successa una serie di inclinazione di eventi vabbè sigla i più attenti di voi avranno notato che dopo che ho detto sigla non è partita la sigla è perché anche questo volevo parlarvi ne ne consigliate una? che ne so un bel logo, un disegno, una musichetta, qualcosa di carino per farci un 20 secondi di introduzione alla rubrica della settimana dedicata ai manga della settimana ok, torniamo al argomento principale manga e fumetti in generale è da un po' che pensavo a questa cosa ma non ho mai trovato il tempo per farla e ne devo approfittare questa settimana perché è uscito il numero 600 di Naruto in cui finalmente abbiamo scoperto l'identità di Tobi sì, lo so che lo sapevate già da parecchio tempo ma Tobi è Obito SPOILER! ehm, sì, forse dovevo dirlo all'inizio del video che ci sarebbe fatto qualche spoiler beh, ora lo sapete, ci sarà qualche spoiler ah, parliamo alla testa al toro nel numero di questa settimana di Bleach il capitano generale dei Gotei 13 fa il Bankai ok, ho detto tutti gli spoiler possibili e immaginabili ora analizziamo un po' tutto nello specifico allora, facciamo un po' di introduzione prima Bleach è un fumetto che a me piace tantissimo per tutti i rimandi alla cultura mondiale che fa Kubo all'interno del fumetto se avessi mezz'ora di tempo per parlarvi di tutte queste cose che a me intrippano da matti ve ne parlerei volentieri non ce l'abbiamo fidatevi sulla parola Bleach però ha un problema ha una trama che potremmo definire un elettrocardiogramma piatto sì, l'idea di Kubo è quella di pensare i personaggi con le loro determinate introspezioni psicologiche piazzarli sul piano dove si svolge l'azione e lasciarli fare sì, è carino ma poi cos'è che viene fuori? viene fuori Bleach che come vi dicevo prima ha una trama che è... eeeh siamo arrivati all'ultima saga del fumetto quella degli Shinigami contro i Quincy a quanto pare che sono una brutta coppia dell'esercito nazista non mi gasa esageratamente come cosa ma quello che non mi gasa particolarmente è la lentezza disumana di Kubo che mandano troppo lenti tutto quello che è successo negli ultimi cinque capitoli quasi un volume intero Kishimoto lo fa in un capitolo se riesco a darvi l'idea di quello che vorrei farvi capire alla fine cos'è successo? beh, finalmente è morto uno dei buoni tempo addietro beh, se state seguendo le scan avrete visto che è morto più di qualcuno ma non definitivamente uno invece è morto di sicuro e adesso c'è Yamamoto che lo stava indicando come fa lui incenerendo qualsiasi cosa si trovi davanti ai suoi piedi mani, braccia raggio visivo e tutto e che è successo? in questo ultimo numero praticamente Yamamoto si scontra con il capo dei cattivi dei Quincy tedeschi nazisti cattivi Juha Beck le solite sbordate spadate fiamme cazzi e mazzi e alla fine dice Bankai ottenendo il risultato di spegnere le fiamme intorno a sé e tenere la spada mezza carbonizzata avrà qualche potere particolare spero che lo scopriremo la settimana prossima se qualcuno di voi si fosse chiesto perché ho aspettato oggi per fare questo video quando Naruto Bleach One Piece come chi del genere escono il mercoledì o almeno io li leggo il mercoledì è perché devo aspettare ieri sera quando è uscito Fairy Tail o come mi piace chiamarlo a me preliminari già fatti sì ragazzi leggetevi un capitolo qualsiasi di Fairy Tail a me basta come preliminari poi posso andare direttamente al sodo con chiunque per chi non fosse stato sintonizzato nelle ultime puntate sta succedendo una saga che è una specie di torneo di arti magiche tra le varie gilde per recuperare l'onore perduto di Fairy Tail che è stata fuori dai giochi per sette anni se ricordate solo che che è successo Hiromashima il geniale autore di questo manga cosa ha detto sono riuscito a condensare un'intera giornata di battaglie in un capitolo e mezzo e però adesso devo fare degli episodi di capitoli filler all'interno del manga perché se no la trama viene troppo aspetta la trama così ieri sera ho potuto gustarmi il primo di una serie di capitoli filler all'interno del manga in cui praticamente la gilda Fairy Tail una gilda composta da diciamo un 20% di buffoni e un 80% di straniocchi e strafighe che vanno in piscina con le loro amiche e amici delle altre gilde ci sono altre straniocche e strafighe e ce ne sono di tutti i gusti le pin-up come Erza e Lucy le lolitte come Wendy e Celia Kelly le ragazzi normali come Revy che onestamente nella sua normalità è quella che mi piace di più ci sono scene di fanservice come Mira Jane che si toglie il costume con una sua amica e oppure fanservice un attimo meno fanservice è stata una puntata così dedicata alle tette e ai costumi da bagno bagnati continuando la carrellata dei manga usciti questa settimana arriva il turno di One Piece se avete mai avuto modo di leggere la pagina su un'enciclopedia dedicata a One Piece noterete che alla fine tipo sulle curiosità sui dati importanti c'è scritto che i personaggi di One Piece hanno una strana malattia agli occhi che li fa piangere praticamente a ogni saga secondo me hanno una malattia che li fa piangere a ogni capitolo questo è un capitolo di transizione praticamente la firma di cappello di paglia arrivata nel Nuovo Mondo sta affrontando la prima vera saga sulla prima vera isola del Nuovo Mondo che è un'isola mezza congelata e mezza vulcanica non sto qui a spiegarvi perché e questo è abbastanza un capitolo di transizione c'è un boss cattivo che ha il roja del gas ci sono quelli di cappello di paglia i buoni diciamo ci sono i Marines con un smoker che è quello con il roja del fumo si sono simili ma apparentemente diversi non chiedetemi perché Oda è un genio anche per questo mi dicono insomma abbiamo appena concluso un capitolo strappalacrime in cui i poveri personaggi terziari dei Marines si sacrificano per salvare Tashiji che è l'aiutante cecata e tettona di Smoker quando beh c'è un altro capitolo strappalacrime in cui il capo di questi Marines che in realtà è cattivo arriva lì loro credono sia venuto a salvarli questo invece è di Maciulla ovviamente Tashiji cerca di contrastare questo boss che la Maciulla tipo con un sputo cade per terra piange perché i suoi compagni stanno morendo piange perché beh le ha prese per l'ennesima volta e cosa succede? colpo di scena da quel genio di Oda arriva Sanji che ha 28 isole di differenza ha sentito una ragazza piangere e prende a calci vergo virgo non fa bene come si pronunci che è appunto questo Marines cattivo intanto Luffy e Smoker fanno una specie di tregua e il capitolo finisce con Ruffy che Bud Spank sarà questo cattivo del gas dopo avergli suonato il campanello mi vedete chi sono? no non sono quello di dual tube channel sono ovviamente ovvito anzi ora sono anche spettinato molto meglio si lo so è un po' vecchia come cosa si era capita da secoli probabilmente però diciamo che gli indizi finali ci sono stati dati negli ultimi cinque capitoli prima magicamente il Kamui di Kakashi viene annullato poi magicamente Tobi rivela di sapere tante di quelle cose su Gaia e Kakashi che ancora un po' ne sanno più lui che loro e per finire ad un certo punto giusto per fuggare qualsiasi tipo di dubbio si scopre che è proprio vito se siete fan di Naruto e avete letto il capitolo e so che l'avete letto saprete benissimo come la maschera che ha addosso viene rotta quindi non parlo tempo su quello parlo un po' di tempo invece sul fatto che beh ecco Kishimoto se la sta tirando un po' troppo un capitolo intero di flashback sulla vita di Obito che praticamente tutto quello che abbiamo visto sul Kagashi Gaiden è più un paio di stronzate in più che poteva risparmiarsene cioè Tobi è stato sconfitto da Gaia durante l'esame di selezione Chunin cazzo questo si che influisce sulla trama oh beh ora sappiamo perché ce l'ha anche con lui sappiamo anche perché anche Gaia si trova sul luogo della battaglia finale questo era il capitolo 599 mercoledì è uscito il capitolo 600 il 599 si concludeva col bellissimo faccione col normalissimo faccione col faccione di Obito mezzo sfigurato proprio a rivelare che si è lui avete sempre detto che era Obito e si era proprio Obito non era Madara non era Danzo non era Akamaru era proprio Obito solo in questo momento penso che chiamerò questo video 100% spoiler perché ci sono tanti quegli spoiler dentro che dovrebbe essere persino dannoso per la salute oh beh che stavo dicendo oh già si Tobi e Obito capitolo 6 5 ecco 15 pagine di capitolo togliamone una cara alla copertina restano 14 pagine togliamone 7 che era un copia in colla spudoratamente preso dal Kakashi Gaiden ne restano altre 7 praticamente che succede Obito dice che è sopravvissuto perché Rinna è morta sì non è molto chiaro infatti anche Kakashi fa un po' what the fuck e gli chiede non stai forse cercando di dire che è stata colpa mia e noi qui a dire cazzo sì parlatene vogliamo capire com'è morta questa povera tizia e Obito ma della verità non è che me ne freghi poi così tanto sai perché questo mondo non è che mi dia tutto questo interesse e fine oh sì Obito mostra una tecnica di fuoco finalmente dopo 400 capitoli circa che esiste il personaggio fa una tecnica diversa dal Kamui Naruto la contrasta c'è qualcosa che non sa fare quel ragazzo con un Rasenga in mano ah sì e arriva Madara arriva lì Madara schiantandosi in modello navetta Saiyan tra l'altro e esce fuori da questo polverone di fumo dicendo ti stai divertendo Obito non con questo accento ai posteri l'ardo a sentenza e così è finito 100% spoiler il numero 1 se non mi linciate per il numero indiscriminato di spoiler che ho fatto questa settimana c'è una vaga possibilità che ci si possa risentire la settimana prossima se invece dovessi morire prima beh ne è valta la pena è è la è è è è è Grazie a tutti.